Ok, salve a tutti e benvenuti. Oggi vi spiego come trovare tutti gli aeroplanini. Qui è la posizione giusta per trovare tutti e tre. Basta andare al boschetto bisunto e troverete tutti e tre aeroplanini. E poi una volta fatta questa missione andremo a fare quella dei ghiaccioli, ok? Quella dei ghiaccioli ai piedi per camminare per 200 piedi. Grazie a tutti. Ok, dopo aver preso il primo aeroplanino, dirigetevi in questa casa russa. Ho messo anche la posizione. Poi distruggete questa tenda e all'interno troverete un altro aeroplanino. Poi dopo aver preso tutti e due, dirigetevi in questa posizione e qui troverete l'aeroplanino che sta sotto l'albero di Natale. Poi distruggerendo le qualifiche di 3-4. Ah ok ragazzi datemi solamente un secondo E poi andiamo a prendere Andiamo a fare la missione Quella dei ghiaccioli Ok qui dovete prendere un pupazzo di neve Lanciarlo e poi colpirlo E vi trasformerà i piedi in ghiaccioli E potete così percorrere più velocemente E fare anche la missione come ho fatto io Percorso 200 piedi Quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione Spero tanto che il video vi è stato utilissimo E ci tocca ancora fare altre missioni per questo evento Inverno E noi ci vediamo ad un prossimo video Quindi ciao